Ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui per portarvi un glitch di GTA 5 per fare soldi infiniti Con questo glitch venderete le auto a 2 milioni praticamente ogni 2 minuti Quindi affrettatevi a fare questo glitch perché vi porterà un sacco di guadagno Intanto per questo glitch i requisiti vi servono una base operativa e l'Avenger con incorporato l'officino Inoltre vi servono delle auto da sacrificare per poter duplicare l'auto con cui volete fare i soldi Allora iniziamo prendendo la LG Facciamo tasto sinistro per entrare all'Avenger Poi facciamo cerchio e usciamo dal veicolo Usciamo dall'Avenger Successivamente andiamo verso l'auto che vogliamo duplicare Qua premiamo tasto destro per poter modificare il veicolo Facciamo una modifica a caso Una volta fatto facciamo indietro e usciamo dal veicolo Ok, c'è duplicato il veicolo Come salviamo il veicolo? Beh, prendiamo il veicolo e usciamo fuori dalla base operativa E così abbiamo duplicato un veicolo Per poter ripetere il glitch basta che rientriamo dentro l'officina E ripetiamo gli step Io vi consiglio di usare sempre l'auto originale come riferimento per evitare bug Inoltre per poter vendere le auto velocemente Vi servirà una targa personalizzata Che si fa usando l'app iFruit Così da poter vendere veicoli ogni secondo e non ogni 48 minuti Come dice il bypass Quindi fate questa cosa perché è molto importante Qua il glitch funziona lo stesso Quindi se volete fare o non lo volete fare sta a voi Qua ripeto il glitch Solo per farvi vedere che funziona Anche facendolo più volte Qua prendiamo la LG Entriamo dentro all'Avenger Usciamo dal veicolo E usciamo dall'Avenger Andate verso poi l'auto originale mi raccomando Per evitare bug Facciamo una modifica a caso Andiamo indietro Usciamo dal veicolo E ce l'avrebbe dovuto duplicare Eccola infatti Adesso si Usciamo dalla base operativa Rientriamo E il veicolo si è salvato Perfetto Questo è sostanzialmente il glitch Mi raccomando di usare la Easy Classic Che si trova sull'Arena War Perché è quella che vi dà il suo danno E detto questo Mi raccomando Lasciate like al video E iscrivetevi al canale Bella Ragazzi E iscrivetevi al canale Ciao